La scultura raffigura una figura femminile gravita realizzata in lastra metallica traforata che emerge da un blocco di marmo di Custonaci. L'opera richiama così la duplice vocazione di Custonaci, quella mariana con il suo profondo culto della Madonna che allatta il bambino e quella del marmo, elemento distintivo che caratterizza il territorio. Iniziamo a collocare questa prima installazione in un luogo che nei prossimi anni lo vorremo sempre rendere più vivo e attivo perché proprio in questo luogo con opere già esistenti e altre che stanno per arrivare lo vogliamo attraverso questa senteristica mettere a servizio di noi stessi custonacesi, di chi è del luogo ma anche dei turisti che attraverso queste installazioni artistiche in un contesto e uno scenario che alla mia spalla è straordinario, ovvero quella della riserva di Monte Cofano con la baia di Cofano e tutto ciò che è ruota attorno, dà l'idea di un luogo veramente magico per dieci mesi l'anno più o meno quindi anche un periodo che ci consente a punto di vista climatico di usufruirne all'aria aperta perché intendo all'aria aperta? Perché l'idea è quella di istituire, ma era nei nostri programmi, nelle nostre idee appunto il museo di arte contemporanea custonaci, lo vorremmo fare appunto in plein air, lo vorremmo fare in questo luogo dove chi ha la volontà, il piacere di attraversare i nostri territori ha l'opportunità anche di arricchirsi non soltanto della vista di questo patrimonio naturale come dicevo prima ma anche del patrimonio da punto di vista artistico con l'inaugurazione dell'opera si è concluso il progetto Custonaci Memorie Futuro realizzato in partenariato con Farm Cultural Park Sicuramente è un'esperienza positiva nel vedere tanta intraprendenza innanzitutto in un'amministrazione pubblica ma anche il coinvolgimento da parte dei cittadini Gli elementi significativi sicuramente la partecipazione da parte dei ragazzi ma anche delle associazioni e il desiderio anche di imparare delle cose nuove e poi anche riuscire a connettere dei mondi completamente diversi un artista romano apparentemente non giovane però che è riuscito a guardare al futuro in maniera molto contemporanea è calata sul territorio L'opera è stata realizzata dall'artista Bruno Melappioni È in posto di cava di marmo e per pensare alle memorie e al futuro io subito nel futuro ho pensato la cosa più normale e più naturale una donna incinta per la memoria ho pensato che un blocco di marmo in forme non piedistallo ma facesse parte della scultura conteneva la memoria di milioni di anni di questo territorio poi l'ho portato a piazzare di fronte al mare perché il mare contiene la memoria della vita perché tutta la vita nasce dal mare quindi memorie al plurale e futuro grazie 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 grazie